Musica Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV24 da Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Padova Iniziamo subito con la prima pagina che ci parla dei nuovi contagi da Covid in Veneto Sono passati già due anni dalla prima vittima Covid in Veneto e a due anni di distanza arrivati ad oggi la curva può dirsi decisamente in calo osservando i dati diffusi dal bollettino della regione Intanto sul tema campagna vaccinale coloro che hanno ricevuto almeno la prima dose rappresentano l'83.1% dei padovani Continuano invece le manifestazioni No Green Pass che proprio sabato hanno visto la partecipazione di ben 300 persone datesi appuntamento in Prato della Valle per manifestare pubblicamente il loro no e rilanciando così la candidatura di Paragone con Italexit per le amministrative 2022 della città Continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Padova nel senso della riqualificazione Sono state riavviate infatti le procedure urbanistiche e patrimoniali per l'acquisizione dell'area Valli all'Arcella Vediamo il servizio Il rispetto per l'area di fronte della chiesa di San Carlo Borromeo prevede anzitutto un'apertura dell'area una messa in sicurezza alla realizzazione di vialetti e dell'illuminazione Vogliamo intanto che i padovani possano finalmente entrare là dentro in una situazione tra l'altro sicura e poi con la progettazione successiva dovremo dare una funzione, una progettualità alta di quell'area che rispecchi anche le attese che da molti anni e il dibattito che da molti anni ha riguardato quell'area I lavori quando inizieranno? I lavori di prima sistemazione potrebbero già partire da questa estate Dare un volto nuovo alla città è uno degli obiettivi cardine dell'amministrazione in un impegno trasversale che mira a consegnare ai cittadini la padova del domani ed è così che si dà il via a nuovi importanti interventi che riguarderanno l'area di fronte alla chiesa di San Carlo Borromeo e alla Bassanello con progetti che guardano anche alle caratteristiche fluviali della città con l'apertura così del bando per la concessione e gestione di un chiosco in via adriatica ne abbiamo parlato con il vice sindaco Andrea Michalizzi Al Bassanello, questa è l'area dove fino a alcuni anni fa c'erano dei vecchi distributori abbandonati alle porte della città un'area degradata, abbandonata l'amministrazione, la giunta Giordania è intervenuta abbiamo demolito i vecchi distributori di benzina ha bonificato l'area e realizzato questa area verde che è un'area verde che è collegata e dà uno strepitoso accesso al fiume con un servizio al parcheggio oggi esce il bando per la gestione di quest'area quindi qui sarà possibile installare un chiosco e il bando premierà i progetti che collegano l'attività di somministrazione con l'attività fluviale noi vogliamo che questo diventi un porto della città dal quale possono partire gite turistiche in barca o attività legate al fiume così si chiude il progetto e il processo di riqualificazione di quest'area che per molti anni è rimasta abbandonata e che oggi finalmente ha un futuro legato alla fluvialità e quindi una storia importante per la città Tempi? Il bando è uscito oggi e starà fuori per due mesi Voltiamo ora pagina per parlare del tema economico Continuano infatti le difficoltà causate dai rincari e nonostante il governo Draghi abbia erogato ben 6 miliardi di euro come misura per mitigare il caro bollette imprese e famiglie dovranno comunque farsi carico di un rincaro da ben 33.8 miliardi di euro e secondo quanto stimato dall'ufficio studi della CGA di Mestre Per contrastare il caro energia Spagna e Francia hanno imposto dei tetti agli aumenti delle bollette per un determinato periodo di tempo Polonia, Portogallo, Grecia ed Estonia invece hanno previsto sconti o azzeramenti totali delle tariffe rinviandoli nel tempo gli aumenti opponendoli a carico del bilancio dello Stato Per essere anche noi di aiuto veramente alle famiglie e alle imprese dovremmo fare come loro Mentre i dati comunque incoraggianti arrivano dalla produzione industriale del Padovano che sale di 4.9 punti percentuali superando i livelli pre-Covid Nonostante il periodo all'insegna dei rincari competitività e fiducia sembrano però riconfermarsi i trend delle azioni imprenditoriali che affronteranno il mercato nella sua ripresa Sul caro bollette Soranzo di Fratelli d'Italia denuncia i rincari che stanno schiacciando le imprese agricole del Veneto Urge infatti una gestione emergenziale per evitare una desertificazione produttiva e difendere l'occupazione Continuano le iniziative green della città di Padova che con il nuovo piano regolatore del verde la afferma tra i primi grandi comuni d'Italia adotarsene come strumento strategico per una città sostenibile ma non solo Infatti sul tema ecologico per la città sono in arrivo 10 milioni di euro Dal piano nazionale di ripresa e resilienza per aumentare anche di 16 mezzi la flotta dei bus elettrici portandola così a ben 100 Iniziative importanti che vanno ad implementare le diverse strategie del territorio in questo senso al fine di migliorare la qualità della vita e dell'aria Sull'ipotesi di spostare la statua del Gattamelata la questione è ancora aperta e spetterà proprio a Papa Francesco pronunciarsi sulla questione La celebre statua del condottiero Erasmo Danarni conosciuto come il Gattamelata potrebbe infatti essere spostata per essere messa in salvo dal deterioramento L'opera fu infatti realizzata nel 1453 da Donatello e rappresenta un prezioso tassello di storia per la città 20 milioni di euro per bonificare i siti inquinati della regione Il progetto riguarderà anche due aree della città di Padova in particolare Parco Mario Rigoni Stern e l'area pubblica adiacente all'ex Kledka a Padova 864 mila euro per 12 borse di studio di dottorato di ricerca in azienda per rafforzare così il ponte tra università e impresa l'innovazione e le nuove competenze Un'iniziativa nata dall'accordo tra l'Università degli Studi di Padova la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Intesa San Paolo Assindustria Veneto Centro e Fondazione Unismart al fine di rilanciare il tessuto sociale ed economico grazie alla creazione di sbocchi occupazionali di alta professionalità promuovendo così il match tra la domanda di innovazione delle imprese e l'offerta di conoscenza del mondo accademico e della ricerca Si è tenuta oggi a 90 la commemorazione dell'ispettore Rosario Sanarico morto incastrato in una chiusa nel Brenta cercando il corpo di Isabella 90 la segretaria di Albignasego di 55 anni per la cui morte sono finiti in carcere con l'accusa di omicidio premeditato Feddi Sorgato, la sorella Deborah e la tabaccaia Manuela Cacco la commemorazione alla presenza della vedova Sanarico e della figlia visto la partecipazione delle autorità del luogo ma anche del perfetto Grassi, del questore Sbordone e di Luigi bisatto in rappresentanza della provincia è stato salvato dai militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza l'uomo di 78 anni che domenica scorsa a Cortina d'Ampezzo è stato colpito da un malore mentre si torovava in seggiovia ad Averò 5 torri immediatamente allertata la centrale operativa del SWEM all'uomo sono state applicate le manovre di rianimazione con defibrillatore per essere poi portato in ospedale a Belluno a seguito delle ricerche avviate dalla locale squadra mobile sono stati arrestati ai fini di estradizione due coniugi albanesi entrambi residenti ad Oslo e risultati destinatari di mandato di arresto europeo per sequestro di persona ai danni di un minore emesso in data 14 febbraio 2022 dall'autorità novreggesi poco dopo le ore 14 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tommaseo per il principio di incendio di un'auto il conducente si è accorto del fumo che fuoriusciva dal cofono motore e una volta fermatosi ha dato l'allarme i pompieri accorsi con un'autopompa hanno subito spento il principio di incendio evitando danni maggiori le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta il comune di padova deve procedere alla nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022-2025 e ha pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.padovanet.it oltre che sull'albero pretorio il relativo avviso pubblico per la manifestazione di interesse a candidarsi per l'incarico e il relativo modulo di candidatura come indicato nell'avviso la scadenza è entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 marzo 2022 e anche per questa nuova edizione del Tgpado è tutto vi lascio alla programmazione di Caffè TV24 e da Leonora Passarella un buon proseguimento di serata www.padovanet.it